Il senso più autentico della condivisione incarnato nella quotidianità della grande famiglia voluta da mamma Anna Maria e papà Enzo, sposati da 23 anni, da sempre anima di una casa famiglia. Prima 13 anni a Torino, poi due a Rimini, tre in Calabria e da otto a Termoli, lì a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli. C'è l'intesa di una famiglia di grandi valori, dai piccoli gesti, dall'apparecchiare tutti insieme la tavola per mangiare. Un'esperienza che trova le radici nella comunità Giovanni XXIII, seguendo l'esempio di Donoreste e Benzi. Oggi in casa sono dieci, due ragazze del servizio civile danno una mano ad Anna Maria e Enzo. Il motore di ogni azione è sicuramente l'amore, soprattutto per chi ha bisogno. Abbiamo quattro figli e in questi anni abbiamo vissuto la condivisione con più o meno 80 tradulti, bambini, mamme con bambini, bambini con disabilità e ogni giorno la nostra tavola, la nostra casa è una novità. Come diceva Donoreste, nelle nostre case non c'è chi salve e chi è salvato, ma ci si salva assieme. Perché è proprio la genitorialità, l'essere famiglia che cura quelle ferite che uno si trascina magari da sempre, nella solitudine, nell'abbandono. Ecco, far sentire questi bimbi, queste creature che bussano a nostra porta, parte della nostra famiglia. Quindi desiderati, accolti, voluti. Quello che oggi noi chiediamo è dai ci stai, noi ci mettiamo la vita quotidianamente, voi per quello che potete, collaborate. Spostarsi però non sempre è facile per una famiglia così numerosa e il pulmino per fare i viaggi tutti insieme è diventato vecchio. Ne serve un altro, mamma mia e papà Enzo chiedono un aiuto. C'è bisogno di un altro pulmino che possa in qualche modo darci maggiore sicurezza e anche quel tocco di ecologicità, così avere anche degli aiuti, perché noi da soli non ce l'avremmo fatta, e avere degli aiuti per poter acquistare questo nuovo mezzo, essere in qualche modo più idoni anche ai tempi attuali di trasferimento.